Luz, prova con una palla filtrante, sulla fascia, è libero, libero a Wilson, per ruote! Molto probabile che questo sia il colpo del K.O., arriva proprio all'ultimo momento! Anche alcuni tifosi avversari stanno applaudendo, è stato un tiro magnifico! Quando i tiri sono effettuati bene, con potenza e giro giusti, i palloni di oggi possono prendere traiettorie inaspettate ed essere imprendibili! Grazie a tutti!